Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Andrea Player Passion, eccoci qua per un bellissimo video acquisti. Innanzitutto ho preso il Proteggi Pad della Switch in silicone, ho preso su Amazon a 7€. Bellissimo, così non si rovina. Poi, 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 finalmente, eccoli qua, i due giochi per Switch. Tantatam, di sghea, ho cambiato io la copertina perché dentro c'è quell'altra, vedete? Ho cambiato io, questa è la cartuccia di gioco, ho cambiato io la copertina, mi piaceva più questa, e io ho tornato questa qua. E qua invece c'è Street Fighter con dentro niente, un libricino di gioco, potevano metterlo, tanto per far vedere che c'è là dentro qualcosa, potevano metterlo. Ecco qua, la cartuccina, vediamo se la metta a fuoco, eccola qua. Questi due giochi Switch. Poi, poi, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo preso altri due, però colorati. blu e rosso, perché prendiamo i giochi colorati. Poi l'abbiamo trovato, siamo andati al medio, a 299, ragazzi. Una zona leve, gru, ombra, nuovo, eh. A 299. Nuovo. Poi sempre 299, questo amico. Ci mancava, e l'abbiamo preso. A 299. Poi, 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 poi. Vengo qua. Poi, 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 sempre a 299. Guardate che abbiamo trovato. Super Smash, abbiamo trovato lei. Abbiamo trovato 0Sight Samus. Fate figata. Ci mancava, l'abbiamo presa. Sempre il 299, ragazzi. Poi, al media board, di no mate, 399. Ci mancava, l'abbiamo preso. Poi, 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 cosa abbiamo preso ancora. Allora, abbiamo preso finalmente i... I, 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 ta, 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 tan. I, 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 i. Spinner. Uno rosso e uno. Bisogna aprirli. Li ho trovati. O chi prende? Mi piaceva il rosso. Rosso rosso. Eccoli qua, le spinner, fighissimi ragazzi, eccolo qua, questo è quello rosso, bellissimo, poi metteremo il volto, questo invece si lumina il buio, l'ho voluto prendere, questo si lumina poi il buio, una fegata pazzesca, verde e acqua, ma si lumina il buio, ne prese solo due, poi ne prenderò altri, poi 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 poi, sempre, oggi mi è arrivato da Amazon, finalmente i portacontroller grip, adesso andiamo assoluto a provare perché, servete per adesso, questo, bellissimi muscati, andiamo a vederli, sono fatti, molto carini, guardateli, con il grip qua, guardate, con il SRL, adesso togliamo una, vedete qua, un pad, la switch, andiamo a toglierne uno, lo sfiliamo, e lo andiamo a mettere qua dentro, e ragazzi, devo dire che è fenomenale, è una cosa fighissima, sembra di avere in mano un paddino, comodissimo, fighissimo, guardate che figata, comodissimo, bello, quando volete giocare in due senza tenere in mano solo il coso, questo qua mi dà una bella impugnatura più grande, molto più stabile, più figa, bella, 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 veramente bella, 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 arrivati oggi, arrivati oggi, per due, e le cose video ludiche, video ludiche, finite, poi abbiamo recuperato finalmente il segno degli antichi, potenze invisibili, l'espansione numero due, del segno degli antichi, e abbiamo finito, basta, e poi abbiamo recuperato finalmente il trono di spade, l'espansione che ci mancava, corvi della barriera, recuperata, adesso siamo a pari, sia con Arcamorro, i segni degli antichi, siamo a pari, sia con il trono di spade, la seconda edizione, siamo a pari anche con questo, niente ragazzi, questi erano tutti gli acquisti che abbiamo fatto, una figata allucinante sta cosa però, e per toglierlo ragazzi, basta spingere qua, nel buchetto, tranquillamente, e basta, lo rimettete poi nel controller qua, senza problemi, questi qua sono una cosa, una figata pazzesca, veramente, fighissima, questi qua, molto bella per giocare in due, fighissima, bella, 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 niente ragazzi, io ringrazio tutti, tutti i ragazzi che continuano a seguirmi, mando un bacio, grande grazie, nuovi iscritti, a tutti i ragazzi che continuano a seguirmi, alle ragazze, ai ragazzi che si sono appena iscritti, questa grande famiglia, continuate a seguirmi, continuate a restare sintonizzati su questo canale, che ne vedete delle belle, i prossimi unboxing saranno sicuramente i giochi che abbiamo prenotato AMS e ISAC, e come si chiama l'altro gioco, come vuoi? I am Setsuya, Setsuya, l'importazione, e questi due qui, altri due controller così, presi con dentro un gioco, un sniper, qualcosa del genere, e niente ragazzi, ci vediamo, col prossimo video unboxing, e aspettiamo che ci arriva un bel giocore, devo uscire domani, Perception, che vogliamo portare la serie sul canale d'orrore, lo porteremo sul canale, ah, poi vi faccio vedere quello che noi abbiamo fatto vedere montato, il nostro amico, il nostro nuovo amico, che se lo mettete qua, lui, poi, dopo che prende luce, si illumina il buio, adesso l'avevo messo qua, che ci fa compagnia qui, appostato qua, dopo lo mettiamo bene, niente ragazzi, saluto a tutti, la maglia c'è metà, saluto ragazzi del gruppo di whatsapp, del gruppo di telegram, dei guest op di novate, del media guard di novate, isabello, saluto il brillante, saluto tutti i ragazzi che ho sulla destra, dei preferiti, saluto tutti, nessuno escluso, e saluto, che mi hanno detto di salutare in questo video, saluto, 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 gabri, saluto arlox, marco, diego, cose cinese, vincet, brillante, squadra dei camionisti, saluto da Daniele, saluto Carlo, saluto Bo, God, Style, Barney, Angel Dark, saluto, e do un bacione, e saluto a tutti gli altri ragazzi, un bacione, grande, 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 e alla prossima ragazzi, un bacione grande, mi raccomando, continuate a seguirmi, e ci vediamo alla prossima, bello a tutti ragazzi, e buona giornata.